Il voto della giuria di esperti e della sala stampa ha ribaltato il risultato finale del festival di Sanremo assegnando la vittoria a Mahmoud, milanese di padre egiziano e madre sarda, secondo posto per ultimo e terzo per il volo. Non siamo arrivati senza aspettative, penso che si sia capito in questi giorni. Siamo felici che ha vinto Mahmoud, che è un ragazzo giovane. Ma anche perché Dardast, che è Faini, è un nostro amico, lo conosciamo anche bene, ci fa davvero piacere, non stiamo scherzando, non siamo venuti al festival con quella presunzione, mi dispiace se è passato questo messaggio, ma assolutamente, anzi, siamo davvero felici, abbiamo avuto occasione di parlare sia con Ultimo che con Mahmoud. Innanzitutto è un grande artista, ma anche un bravo ragazzo, è anche la cosa che conta di più. La mia vittoria sono i live, sono la gente che mi vuole bene, la gente che si riconosce in quello che scrivo. Sono comunque contento di aver partecipato al festival, sono contento per il ragazzo Mahmoud che ha vinto questo festival. Guarda, senz'altro io sono fan della musica moderna, io ascolti molto misti, quindi ascolto dalla trap all'indie, al cantautorato, alla musica comunque internazionale, anche americana, al rap. Mi sono lasciato un po' contaminare, però non saprei dirti se appartengo proprio a quel genere lì, perché comunque le mie influenze sono abbastanza miste. Ogni volta che mi chiedono che genere fai rispondo morocco pop, proprio per dire perché alla fine ho anche molte influenze arabe dovute ad ascolti passati, quindi io sono fan di tutto e di niente, ecco diciamo. Guardando la classifica del voto del pubblico attraverso il televoto avrebbe vinto ultimo seguito dal volo e Mahmoud sarebbe stato in fondo, un dato che ha fatto scatenare polemiche e proteste. Il primo a farsi avanti in sala stampa è stato ultimo che ha espresso il suo pensiero, come dire, senza piedi sulla lingua. Voi dovete sempre, sai perché non mi va bene? Parlo con te, sai perché? Perché voi avete questa settimana per sentirvi importanti e voi dovete sempre rompere il cazzo. Sì, è questo il momento. Ma voi potete anche farlo, a me non mi interessa più di tanto. Tanto qualsiasi cosa io dico, voi troverete qualcosa da ridire su quello che io devo dire. Qualcosa da ridire. Va bene, va bene. Dai dai, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, ho detto che sono contento per Mahmoud, senza come lo devo chiamare, l'uomo, il ragazzo, è un ragazzo, lo chiamano ragazzo. Sul risultato del festival il Codacons si è spinto addirittura ad annunciare un esposto all'antitrust per chiedere accertamenti sulla classifica finale. In precedenza il pubblico dell'Aristone aveva invece già espresso il suo disappunto per il quarto posto di Loredana Bertè con fischi che resteranno nella storia della Kermesca Nora. Polemica parte, proseguendo con gli altri premi assegnati a Sanremo, il premio della critica Mia Martini e il premio Lucio Dalla sono andati entrambi a Daniele e Silvestri con la canzone Argento Vivo. Il premio Sergio Indrigo alla migliore interpretazione è stato vinto da Simone Cristicchi con Abicura di me. Il premio Sergio Bardotti per il miglior testo ha segnato ancora Daniele e Silvestri. Il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale ancora Simone Cristicchi. Mentre ultimo con I tuoi particolari ha vinto il premio Team Music ha segnato la canzone più ascoltata su Team Music.